Miriam e Catania, l'ex di Luca Argentero pronta per diventare mamma bis secondo indiscrezioni l'attrice starebbe pensando di allargare la famiglia con il compagno Quentin, forse. Ci starebbe già riuscendo a maggio 2017 Miriam Catania è diventata mamma del piccolo Jacques, ma per l'attrice sarebbe già tempo di allargare la famiglia. Secondo quanto riferisce il settimanale Spa in edicola venerdì 9 marzo, infatti, Miriam e il compagno Quentin Cammerman non avrebbero perso tempo come dimostrerebbero, le forme arrotondate. Che l'attrice romana ha mostrato alla conferenza stampa del film anche senza di pe, che la vede protagonista accanto a Nicolava Poridis e Matteo Branciamore. E la speranza è che questa volta sia una bambina. D'altronde Miriam l'ha sempre dichiarato, vengo da una famiglia di tutte donne e ho sempre desiderato avere una femmina. Leggi, Miriam e Catania, Luca Argentero, non è un amico ma ci vogliamo bene. L'amore tra Miriam e Quentin è scoppiato nell'estate del 2016 a Ibiza, dove si sono conosciuti. Un amore a prima vista, aveva dichiarato lei, che ha trovato nel direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria l'uomo che l'ha aiutata a uscire dalla separazione dall'ex marito Luca Argentero al quale è stata legata per 12 anni, 5 di fidanzamento e 7 di matrimonio. Glippi, che ha trovato nel direttore dei giorni, che ha trovato nel direttore dei giorni, che ha trovato nel direttore dei giorni.